Giovanni Carnevali, l'influente amministratore delegato del Sassuolo, è stato voracemente avvicinato dai giornalisti fuori dalla sede della Lega. Con grande maestria ha ribadito l'importanza del promettente futuro di Davide Frattesi e l'imminente opportunità per lui di distinguersi in uno dei nomi più importanti del nostro campionato. Iscriviti al nostro canale per ricevere le prossime news dell'Inter. Sono aumentate le pretendenti dopo l'impressionante prestazione di ieri contro la Spagna? Spero sinceramente che ci sia un aumento considerevole delle candidature, anche se vorrei sottolineare che la prestazione di ieri non è necessariamente il fattore decisivo. Com'è andata la cena con l'Inter? Ci sono stati progressi nei negoziati? Abbiamo numerose cene, non solo con l'Inter. Al momento, però, non c'è accordo o progresso con nessun club in particolare. Mi rammarico profondamente per la decisione del giovane giocatore di non passare alla Premier League, dove sono arrivate proposte molto allettanti. Ora più che mai le decisioni vanno prese di comune accordo, coinvolgendo tre parti e non solo il giocatore stesso.Campioni come frattesi. Si dice che Mulattieri possa essere una risorsa per sbloccare questa trattativa. Cosa puoi dirci a riguardo? Siamo, infatti, molto interessati a Mulattieri, così come ai giocatori della Roma e ad alcuni giovani prospetti. Tuttavia, è importante sottolineare che queste trattative sono del tutto indipendenti dalla possibile cessione di frattesi. Il Sassuolo ha sempre avuto un grande interesse occhio ai giovani talenti e rimarremo fermi in questa politica. Se si presenteranno buone occasioni le sfrutteremo sicuramente. In caso contrario continueremo con frattesi e altri giocatori di grande rilievo. Quindi per chi cerca di acquisire frattesi, sarà necessario affrontare le proposte della Premier League? Affinché qualsiasi trattativa vada a buon fine, è essenziale che tutte e tre le parti coinvolte siano soddisfatte, non si tratta solo di due di loro. Frattesi ha espresso il desiderio di continuare la sua carriera in Italia. E noi faremo del nostro meglio per soddisfare tale domanda, a condizione che vi siano concrete possibilità in tal senso. Cosa ne pensi delle parole di Giovanni Carnevali? Commenta qui sotto!